Cavolfiore al microonde in 7 minuti senza adori e pronto da congelare. Ingredienti Un cavolfiore, 3 cucchiai di aceto di mele, 6 cucchiai di acqua. Su Instagram siamo già 20.000, puoi anche lì vedere video, salvare le tue ricette preferite e creare il tuo ricettario. Seguici e facci seguire, anche per non perdere le nostre dirette. Taglio a metà il cavolfiore, ricavo tutte le cimette eliminando la parte bianca centrale che è quella più dura e le lavo. Metto il cavolfiore in un contenitore dotato di coperchio adatto al microonde. Aggiungo l'aceto e l'acqua. Copro lasciando aperti i fori del coperchio. Inforno nel microonde a 900 W per 7 minuti. Una volta che il cavolfiore è completamente freddo, può essere porzionato in contenitori o sacchetti e messo in congelatore, in attesa di essere consumato con insalate, pasta, torte salate e persino sulla pizza. A proposito, sono in pubblicazione delle buonissime polpettine con il cavolfiore che abbiamo annunciato qualche tempo fa su Instagram. Con il microonde otteniamo una cottura a vapore e l'aggiunta dell'aceto di mele, che non è forte, aiuta a contrastare l'odore del cavolfiore. Il risultato è un cavolfiore agrodolce che potrete consumare già così con olio, sale e pepe, oppure in aggiunta ad altre insalate. Se non amate l'agrodolce potete omettere l'aceto. La cottura al microonde mitigherà comunque l'odore del cavolfiore. Sul nostro sito trovate tutte le informazioni nutrizionali su questa ricetta. Se ti è piaciuta metti un bel mi piace, è ancora meglio se scrivi un commento con le tue impressioni, dubbi, perplessità. Ti ricordiamo anche di cliccare sulla campanella dopo esserti iscritto, in modo da ricevere in anteprima tutti i nostri video. Grazie a tutti.